Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Siamo pronti per fare la Secret Telling 2! Allora noi siamo spariti per qualche settimana, siamo stati in serie e niente, quindi finalmente l'ha tanto attesa Allora ringraziamo per averci suggerito di fare di nuovo questa challenge Giacomo Ollandini, Mia Salchi Gioss Gabel Mutt, Mad Love, Daniele Giovanelli Come sempre speriamo di aver detto bene i nomi Ringraziamo amorevolmente chi ci segue Anche se ultimamente c'è stato qualche battibecco all'interno del nostro canale Devo dire la verità e teniamo a dirvi che siamo una famiglia normale, una famiglia comune Abbiamo un sacco di cose da fare e cerchiamo di fare il nostro meglio per accontentare tutti Però voi dovete avere un po' di pazienza Speriamo sempre di farvi compagnia e di farvi divertire E ci teniamo tanto 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 a voi E speriamo che per voi è lo stesso Quindi iniziamo con la Secret Telling 2 Adesso noi giocheremo con voi Non saremo noi a dover capire qual è la parola o la frase Che Christian Gaia o io andiamo a suggerirvi Ma sarete voi a dover indovinare E quindi noi vi aspettiamo nei commenti per vedere se siete arrivati a capire cosa sta succedendo Parte Christian Devi parlare Ecco questo si è capito Io l'ho capito Perché tengo le mani Non stai stringendo troppo Allora Vai 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 Ma sembra come sia Riverti Ma non l'ho capito manco io Ho capito solo a settembre E se siete anni che dovete prendere e mandare adesso Hai capito? Sì A settembre andremo No tu non lo capisci No 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 Allora È una frase che si capisce Scrivetelo nei commenti se avete capito questa frase Ma è una cosa che noi faremo il quattro settembre Dovrutti Eh ti conosce cosa stavano così Dovrutti 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 No Vabbè S'hai capito? No No E allora fammelo ridire Fammelo ridire Dovrutti 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 Ok No però Non lo devi dire Non esci tu dal video Eh non lo devi dire Non ti vedi Non lo devi dire Ok vai Mamma ma tu devi tenere a Cristian Vai Allora Pronto? Vediamo cosa dirà Cristian Vai Devo un attimo a pensare Ok Sei pronto? Mi sto grattando Vai Vai Mi sto grattando Vai Azzetto È un po' è Che detto? Che detto? Che detto? Che detto? Non lo devi dire Vai 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 Ripetti Ecco lo che ho detto io Vai Allora Allora dovete sapere che questa sarà la seconda esperienza per Gaia e Cristian E per noi invece sarà la terza esperienza Quella che ovviamente vi avranno detto loro La meta è una meta novità per tutta la pandemia Vediamo un po' chi riesce a indovinare quale sarà la prossima meta E adesso che tocca a Gaia Adesso che tocca a Gaia vediamo un po' di spoilerare La potrei capire 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 Vediamo un po' chi capisce la meta Gaia adesso vi dirà un indizio Non vi dirà Se indovinate Se indovinate quello che ho detto è una specie di quiz C'è una domanda C'è una domanda C'è una domanda Sì vai Vai Nonna costruite te nel corso degli anni Io ho capito solo nel corso degli anni Vai continui Nonna costruite te nel corso degli anni Ah ok ok Vi possiamo dare un piccolo suggerimento No Vediamo ripeterlo un'altra volta Aspetta aspetta Ripetiamolo un'altra volta la frase Vediamo se si riesce a capire Che cosa è? Interessantissimo Oh mamma, com'è successo? Ti sei spellato i piedi Allora, interessante questo Questo invizio Chi mi tiene la bocca? Chissà Chissà, tocca a te Allora Unito Il questo tutto È molto molto caldo Avete capito? Capito tutto Ripetete No, scrivetelo nei commenti se avete capito Mi raccomando Ad ogni suggerimento, ad ogni frase Voi scrivete nei commenti quello che avete capito Così cerchiamo un attimo di capire anche noi se c'è qualcuno che ha indovinato qual è la nostra Io, 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 io Hai pensato? Hai pensato? Hai pensato? Mi è venuto in mente l'ultima challenge Così, così, così No, così, così Così, così 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 Vai No, è più bella, guarda, guarda, guarda Così, così Che cosa è che ho capito? Che mi devi mantenere tu? Chissà, secondo me alla fine di questo video Loro capiranno Dove andremo? Oh, è un'altra cosa Non è molto più bella Non è molto più bella Che stanno Oddio, questa non l'ho capita nemmeno io Ma mi capito nemmeno No, non ce la posso fare La bimbi Ah, che bello che hai detto Che sei comodo È duro Allora, com'è? Non mi metto questo cristallo Ok, tocca a me No, mi devi mantenere tu È già mollere È Cristiano, non me la fa dire bene No, ma lei detta Si è capito Ma io ho detto veramente quello che hai capito Perché Cristiano non me la fa dire bene Va bene, ripetiamo Ripeto Le mani Continua a capire quello che ho capito prima È una meta quest'anno Continua a capire quello che ho capito Ma va benissimo così Vediamo se qualcuno è stato più fortunato E invece io vi dico Dammi un suggerimento Gaia Sì, devo mantenere il taglio E cosa vi do il suggerimento, io? Ah In questo In questo momento Si è capito? Ho capito tutto E cosa hai detto di me nell'orecchio? Non ho detto questo però quasi Eh Non ho detto quello Non ho detto quello Non ho detto Non ho detto quello Gaia ha detto questo a me Eh, Gaia è fessa Chiotta A chi tocca? A me A Cristiano Ok Ti mantengo io No Però prima ti dovevo mantenere io Eh, dove lo mantieni tu? Due turni Tra l'altro Adesso Cristiano mi dirà un'altra cosa Pensa Ci sei? Vai Che hai detto? Io l'ho capito Che hai detto? Che hai detto? No, non ho detto No, vai Hai capito? Hai capito? Hai capito Gaia? Ho capito Poseidone Poseidone No Ho capito Poseidone Poseidone Che qualcuno l'avrà capito lì Cosa? Vai No, basta vai No, no, no Ma di me la 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 E la lei Ma un contrattempo Ho un indizio Mamma mia Vai Green Tocca a Gaia Non la faremo Solitico challenge Ma la rete finale Non la faremo Ho letto un commento che ci hanno chiesto più volte di fare la Solitico challenge Però Chris? No Non sei d'accordo Quindi non ci saranno più Solitico challenge Anche se vedo che mi piacciono un sacco questo tipo di challenge Ma Sì, nel video arriva a mille like Ne faremo una terza parte Che esagerazione Ma bene però A 160 like faremo Sottato A 150 mila like E faremo il prossimo video Allora sì, dai Facciamo così Visto che sarà una cosa non possibile per il momento Ma arrivare ai mille like del video della challenge No, a mille like e 159 mila like E per i 6 7759 mila like Va bene Allora Va bene Non resta che condividere il video E farci Conoscere un po' da tutti No Vai 3 minuti Ciao Ciao Dai Vai Aiuto Si scamazzano Gaia mi sta scamazzando Che hai detto? Ho detto aiuto Che dovevo attendere la corsa Allora D'indiccio Anche lì Alleggerisci un po' Gli Ma è troppo Mi sa che stiamo ammazzando però Ma è troppo Hai capito? No No Vai di nuovo Sicuramente qualcosa storica però che hai detto Qualcuno l'avrà capito Forse Vai A me A me A me A me Vai Vai No A me A te A me A spingere troppo Gaia la facciamo così Mamma A Gaia Gaia A me E vai Vai Mantieni a Chris Dite qualcosa Aspetta Insieme La stessa frase Hai capito? No Hai capito? Mi state schiacciando Una Due 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 Sono io Sono io Questa non si è capita Vabbè dai questa è andata proprio Mamma mia Allora la secret Allora la secret challenge Finisce qui Vi abbiamo dato qualche suggerimento dove noi il 4 settembre andremo mi raccomando fateci sapere nei commenti se avete capito noi leggiamo tutto legge anche Christian mi raccomando Noi vi chiediamo quale challenge ci volete suggerire perché ne abbiamo un bel po' insomma in cantiere da fare Però da settembre veramente riprendiamo con il nostro canale youtube fisso con i tre giorni a settimana Perché finisce l'estate No ma perché comunque ad agosto siamo stati molto fuori insomma E infatti ho ancora un vlog per registrare di una bellissima giornata che abbiamo passato in Puglia Due giorni in realtà Andiamo in Puglia 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 Siamo andati a Puglia Albero Bello Albero bello E Polignano a mare Quindi uscire al primo E abbiamo fatto con il campedio al mare No non là Ma l'abbiamo fatto là No a un altro mare Un altro mare Ma ci sono state un sacco di cose carine che abbiamo fatto E quindi di conseguenza abbiamo un attimo lasciato in stand by il canale youtube Ma da settembre è promesso riprenderemo alla grande E niente Noi vi salutiamo Come al solito iscrivetevi al canale e Lasciate il like, attivate la campanella e commentate Che le risposte Mi raccomando noi ci interessiamo Allora A cosa scrivete? Allora Vogliamo sapere Che avete capito? Qual è la verità? Io sono curiosa Io sono curiosa Preferite l'estate o l'inverno? Estate Inverno 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 Scrivete sotto i commenti se voi preferite Inverno o estate Inverno o bello inverno No L'estate si fanno tante cose Inverno Inverno Ma pure a papà gli piace Ma pure a papà gli piace inverno No non siete figli a me Va bene ragazzi noi ci vediamo al prossimo video Prodo a bronzare Io ci sto Eh certo Ti piace molto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao belli Lìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti.